Io amo Ostia perché si sta bene, perché in cinque minuti arrivo al mare e mi posso buttare in acqua, non devo fare tre ore di fila, perché posso scappare in pineta, perché c'è un'aria frizzantina che non trovi da nessun'altra parte, perché la gente è simpatica e perché posso godere i tramonti, le albe ed è un posto magico. Io amo Ostia perché vivo da 30 anni a Ostia e ormai non posso andare in un altro posto. Io amo Ostia perché nell'arco di un chilometro hai case di duemila anni, un bellissimo mare con dei meravigliosi tramonti e un bosco dove nascondersi, giocare a nascondino. Allora, io non amavo Ostia e non la conoscevo, l'ho scoperta con Aldo e la pagina la mia Ostia, e sto iniziando da Mare Ostia. Io amo Ostia perché c'è il mare e io abito in una zona del centro storico di Roma e stando lì non c'è sta il mare, non c'è sta niente, quindi preferisco venire a Ostia. A noi piace Ostia perché? Se non fossimo nati qui? Non ci saremmo conosciuti. Amo Ostia perché, anche se non sembra, ci sono molte cose. C'è pineta, mare, c'è spazio un po' per tutti, anche se andrebbero un po' rafforzati. Quindi cerchiamo di mantenerceli. Noi amiamo Ostia perché è bello prendere gli aperitivi sulla spiaggia a quest'ora. In riva al mare. Wow! Io amo Ostia perché è l'unico posto in cui è possibile rilassarsi d'estate dopo un inverno di schifo a Roma. Io amo Ostia perché è la mia città. Dove altro potrei farmi chilometri e chilometri in bicicletta e osservare questo bellissimo panorama? Io amo Ostia perché ho conosciuto lui. Anche lui. Io amo Ostia perché c'è il mare. Io la stessa cosa sua. A me piace venire sempre a Ostia ogni domenica perché vengo sempre a prendermi il gelato perché è il mio cibo preferito.